Piazza Dal Benzio è stata la location per presentare Spoltore Riparte, dedicata alle strategie per il turismo. Un appuntamento per conoscere i nuovi strumenti turistici della città e le attività delle associazioni. Cinque percorsi turistici itinerari pensati per gruppi organizzati con il personale delle associazioni a far da guida. Questo è il calendario 6 agosto con Italia Nostra, 29 agosto con il tour delle moto d'epoca, 24, 25 e 26 settembre durante il raduno dei camperisti, il 17 ottobre in occasione di Giro Borghi, il 28 novembre per la mattinata FAI. Visitare Spoltore da questa estate sarà più facile grazie anche all'app City Around, la nuova applicazione tecnologica progettata per diventare il navigatore ufficiale della città. Attraverso questa sono già disponibili due tour, uno dedicato al centro storico, l'altro alle bellezze dei Cinque Borghi. Vogliamo essere beneauguranti di una ripresa post-pandemica, riaccendere i riflettori sulla nostra città, sulle tante iniziative che abbiamo messo in campo, abbiamo programmato in questi mesi di chiusura e che quindi da agosto partiranno per promuovere la nostra città, le sue bellezze. Queste sono iniziative che insieme ad altri strumenti tecnologici di promozione del turismo a Spoltore metteremo in campo perché c'è bisogno, veramente un grandissimo bisogno, di riacquistare fiducia e speranza di lavorare sodo per creare un circolo virtuoso per i nostri operatori della recettività, per gli operatori turistici, ma anche per i cittadini che hanno bisogno di vedere attivismo da parte dell'amministrazione, delle amministrazioni e proprio un ruolo proattivo finalizzato a creare sviluppo. È stato un anno molto difficile per tutte le associazioni perché chiaramente un po' per i fondi, un po' perché era difficile muoversi e collaborare e strutturare qualcosa insieme. Abbiamo cercato di fare il meglio e il meglio l'abbiamo fatto anche meglio di quello che ci aspettavamo perché siamo riusciti a aprire un infopoint, a strutturare delle visite guidate, aprire più in là anche un circolo privato, quindi in qualche modo abbiamo movimentato il borgo e Spoltore Paese con tutti gli altri bordi. Abbiamo tutti voglia di ripartire, però non dobbiamo sottovalutare quello che c'è purtroppo tuttora in corso, anche se va scemando, ma dobbiamo mantenere sempre alta la guardia.